il suo posto ciao 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 chi sei? chi ha parlato? chi cazzo ha parlato? chi è quel lunedetto? sono uno dei tuoi golem dei miei golem? dov'essere i miei golem? no sono di sopra aspettate, andiamo a vedere i nostri golem no no lascia perdere i golem ok ah sei quello di legno che parlava sempre e questo chi è? mori, mori, mori e non ti becco più perchè ti sei bloccato? no perchè mi ero magritto ah ok abbiamo appena dedicato un giga al server adesso lagga, però lagga non lagga 15 minuti un po' di un minuto quindi un'ottima soluzione cioè un ottimo risultato per noi umili serve da provare a dedicare 2 giga visto che hai 2 giga liberi sul computer ok proviamo per la prossima la prossima volta per oggi facciamo i diamanti finiti eeeh si però lì lo farà anche se un impianto la chitera vuol dire devo, largo la voce si no ho detto l'impianto lo fai si ah ok basta quant'è anche se lì anche se l'impianto è mio si è solo l'impianto non è vero lo fatto io dettaglio no non è vero aggiorniamo anche gli amici a casa della data di oggi oggi è 12 febbraio carnevale è vero questo problema che uscirà fra un mese e quindi anche se carnevale oggi saranno già a Pasqua per quando uscirà questa puntata questo impianto che adesso non ha fatto nessuno l'avranno fatto 30.000 persone quindi state sicuri ma facciamo qui in parte così zona tua zona mia dimmi dove dimmi dove possiamo farlo anche qua dentro no dimmi dove qua in parte io non ti come non mi vedi e poi anche ancora la voce due 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 dai dove sei lì qua dietro dalla porta dell'impianto quello la che fa gli oggetti infiniti ah si 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 questo è voler per volare 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 facciamolo subito e velocemente è facilissimo da quello che ha detto lui è facile quindi LOL non è che lui non è a mia mia ticciuto non è mia vabbè dai ci siamo capiti esatto dove sei sono qua fuori ha piaciuto anche le ender le automatic crafting mi sa che è meglio se no scherzo dai beh se vuoi lo faccio aspetta da quel video piazzo no aspetta prova prova guarda che senti anche l'agri con la voce prima quindi è anche un po' la tua linea internet allora no è impossibile spezzamaccia un secondo su c'è tua sorella che si fa le pippe davanti ai video come due sei quattro otto zero quattro tre due uno ventotto pronto pronto chi ha capito che era un cellulare ecco bene noi cominciamo intanto arriverà prima o poi francesco no questo no allora automatic crafting messe in questo modo qua andiamo a fare intanto gli oggetti allora intanto che aspettiamo francesco francesco spiegati allora automatic crafting che saranno no c'erano dobbiamo farci un botto di ender chest è arrivata la giovanna è arrivata la giovanna sto facendo intanto l'ender chest che servono bravo 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 3 quindi 6 perfetto poi 3 ender chest devo farne quattro la verità quindi ne facciamo quattro che cazzo è sta roba? eh sto giocando a single ladder mentre tu fai i miei piani ah ok si sente anche il rumore sai come è final che mentre gioca a minecraft e facciamo episodio anche bello oh ma final vieni con un attimo si cosa vuoi ma cosa stai facendo che stavi fermo ah sono su facebook che c***o eh molto molto impegnato nella vita eh scusa eh ma scusa tu vuoi fare sempre tutto tu quindi qualcuno deve fare qualcosa eh vabbè però il tuo impianto e poi sei tu che non lo fai sì ma due cesta non è possibile oddio non ci credo aspetta io dedicato 2 giga no ma ecco le fatte le due intercessi no da fare 4 no o 5 o 10 giga dai ma possiamo usare anche gli tentester no troppo non riesco a farli mi servirebbe un magma crucibile non voglio farlo a questo impianto noi faremo dei infiniti diamanti alla faccia di tutti quelli che dicevano che non era possibile farmare diamanti in realtà non sei c***o giusto dici esatto c'era un modo sembra che ho la e e perchè senza la e e non possiamo fare e niente e e diamanti infiniti sia intanto bisogna prendere un po' di colori per le nostre ender chest che colore vuoi? allora voglio una rossa 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 quella la che già sai e l'altra quello smistamento già va bene ah no aspetta quella per il mio quella per il legno la voglio nera gialla fucsia e il tuo fucsia te la metti sopra il eh ho pietato i fiori con la industria il craft non crescono i cantati fiori l'industria il nero ancora ancora perchè l'industria l'industria craft piante i fiori si oddio non lo sapevo quando i crop vai fuori ah i crop e tu e noi è possibile piantare solamente giallo e rosso eh lo so unico problema è che non crescono sono fermi da un bel pezzo ci ho messo anche il il bone meal c'è stato sempre pieno eh si è sempre aperto mangiamo un po' allora eh ah vuole fare no i tubi di liquido ma faremo allora no le men no dai dai facciamoli no va fai fino ad agosto impianto prima prima allora mettiamo qui con questo qua ci facciamo i sei colori gialli si gialli verdi grossi rossi ho detto anche giusto sperando a caso i colori poi cosa volevi vedere giallo verde io faccio verde no faccio arancione nero giallo arancione dai dai fai arancione dai nero no no voglio blu te lo metti nel culo insieme al fux beh bello eh nero giallo arancione un bello acquistamento tutti i colori o lag ancora di più eh con un giga adesso metto 4 non mi frego un cazzo anche se non riesco ad avere eh tu non li hai per un giga lo so che palle è vero che c'è scritto 4 giga disponibili e mi dice 6 giga 2 giga utilizzabili e da cazzo gli usati tutti gli altri boh maledetta ah è per scaricare il nuovo ruolo eh se fosse così allora la rossa è quella delle delle shard quindi siamo a posto andiamo a piazzarla in mezzo alle nostre automatic uuuu arrivo eeeh dove sei dove sei ma io sono sono in giro per il mondo vuoi un jetpack te lo fai ahahahah che cattivo hai minchia sei simpatico come metto un calcio nelle palle dopo aver scopato ahia eh se può così tanto a cosa si arriva l'ender chest ah si pri il legno quindi bisogna modificare qua digelo sai che ti scoppierai un'area al minuto in ehm otto sepoli che? perchè ah ci c'è anche il vuoto jesse un hub perchè e perchè hai fatto l'impianto sospeso su un vuoto infinito lo so perchè hai esploso un creeper ah anzi si mamma ehm no le hai fatto un vuoto infinito nel senso che sotto all'impianto c'è un buco ah giusto vabbè dettagli dettagli eh si è necessario che le mettiamo eh perchè mi fai ste domande ufa che io non so mai rispondere aspetta 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 beh il cesto le mettiamo digelo fa farti orare no ma come non c'è il vuoto infinito si a me mi fa vedere il vuoto infinito ma no vaffanculo e poi hai anche uno scheletto uno zombie qua che rompe si è uno zombie un ragno che avremmo già buttato giù sicuro si è il vuoto infinito ma si dj vedo anche un creeper di sotto l'unica è farla qua aspettate e adesso andate a finire tutte le le automatic bene se io ti tolgo quella cadi giù come un pipirla ah quindi eh boom son morto? ancora no ancora no ti vedo fermo mi son mutato con il mano di più di diamante nooo e non sto scherzando c'è un pipistrello però e un po' di terra capito dj non sto scherzando no no hai leftato eh eh si perchè tutti per spese invadere vabbè intanto avevo fatto tipo 40.000 autocraft per il cazzo quindi ne ho qualcuna di riserva allora sempre in mezzo questa qua questo non dovrebbe esserci niente perfetto cioè qui sotto dovrebbe esserci qualcosa no non niente perchè niente è da escludere ti ho fatto qualcosa sopra al coso che non è rotto grazie fatto il coso esatto cosa sul coso grazie grazie troppo gentile perfetto mi sa mi sa qui è scoppiato un piccolo creeper anche parte si l'ho sentito anch'io eh gira non dirmelo ho paura quando dici queste cose panico 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 paura vabbè dai 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 perché non riesco a aprire questo è quello questo è quello della legna giusto se che palle sto grano ha mai mi ha rotto il cazzo no 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 qui va benissimo dai 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 ce l'hai eh aspetta devo fare l'impianto che mi porta a tutte le ah è difficile sta cosa allora non è difficile solamente che tu non hai voglia come faccio per me mi sono nei colori i colori allora i colori ce li abbiamo dove sono i colori se li avevo da qualche parte ah però basta prima di iniziare l'impianto vero e proprio direi di iniziare a fare l'autocrafting delle shard ehm è vero vabbè andiamo con ordine e tranquillità va perchè se no scusa se non l'autocrafting delle shard come fai a fare l'impianto ehm ehm ok ok ho già visto ho già capito che questo qua mi fa sprecare un macello di di ender chest eh si io chi sennò e possiamo farle qua sopra nel vuoto infinito visto che non serve com'è che avevi fatto allora la cesta guarda copi tutti i miei impianti spudoratamente mettete mi piace a dio se anche voi pensate che dice copio io copio troppo copio dovunque e fu così e fu così che solo io mi si mi piace eh non sono in tanti ancora eh non so quando è uscito questo video però adesso che lo stiamo registrando siamo attenti eh per quando uscirò questo video avremo tipo tantamila ottantamila cioè iscritti al canale si eh scusate per la voce però con i tuoi tempi di caricamento sicuramente ne avremo sì un 3.000 beh lo sta caricando un po' trappolente vabbè che sto facendo video a manetta faccio tipo 15 video al giorno con un caricamento di 2 giorni ahahah quindi siamo a posto per altri 7 giorni ehm come sono venuto a fare ah le ender chest che bisogna fare altre ender chest eh finito a farne ha detto posso chiedere posso dire una cosa cosa hai dimenticato di fare il bagno eh si devo pisci a cazzo però eh spacca un buco sotto terra trova il voto infinito prova a farla dover piscio o dover piscio c'è il buco spacchi per terra pisci dentro dentro là ci sono un paio di creeper al massimo ti esplode il penetro no 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 aspetta glielo dividi la vero aspetta c'è il sovraeroe of final c'è aspetta scherzi telefonici allora intanto che faccio la ender chest perchè sto girando come un pirma qua chi l'ha notato? chi l'ha notato eh? va dai dici all'impianto sei come farlo io vado a bere la cioccolata male del dopo e scusa noi siamo mi ha contattato alle due e mezza per farmi registrare sono le cinque abbiamo appena prima tu vorrei farmi vedere l'impianto come veniva fuori ok eh grazie non lo riesco a fare io per chi il server lag almeno qualcuno lo deve sapere ok devi essere forti devi sentire fortunato perchè ti ho tramandato in casa il tuo sapere adesso ti bevi anche la cioccolata calda maledetto eh me la passi tramite wifi no brutto brutto è un po' lento magari infrarossi infrarossi eh eh ma il mio cellulare non ce l'ha che trucca allora dai dai dico a mamma di aspettare la vado appena se mi ricordo di shining quando si vicino alle porte perchè le porte non si aprono e resti fermo io passo e ti vedo la è perchè sono uno subratore seriale di bocchia si pieno anch'io devo prendere tre colori e non due io so che non so ah non mi so qualche parte no ho trovato il piscine e mi son buttato nel letto lo sai in acqua si mischia nooo nell'orto nooo e che ancora gli occhiali sono aspettate quanti simboli hanno bestia mi serve un nero c'è la chart perfetta ci serve un nero abdul vieni abdul no no non serve abdul può venire aspetta mustafa vieni DJ io nooo che teccato abdul a si ma la la nana la nana no addito di no questa serva a me dai facciamo una domanda filosofica di gene con l'avvento delle lezioni in italia cosa ne pensi tu della massa solare proporzionata a alla luna. che secondo me è acribio! questa è una risposta impossibile vabbè io vado a bere la cioccolata ok questo devo mandarle a casa mamma mia no senza Francesco non è più divertente si ok live al server adesso ecco bisogna colorarlo clic allora bisogna impostare le under chest un po' di queste cose qui e delle leve delle leve che ho che devo fare non che ho allora farò un botto di leve tranquilli non sono bravo a non fare poche leve 64 leve dovrebbe bastare ehm andando per due stecchini e un po' di cobblestone non me ne pento perché canto canzoni di natale non lo so allora è vivo è perché lui deve superare la cosa la porta è sempre aperta ma sono scemo oh no ho scoperto che mettendo più di sti cosi qua velocizza il tubo di legno quindi ne metto un macello di di più quindi in questo modo potrei velocizzare un po' tutti i tubi possiamo dire ok beh questo qua non serve magari qua ma si chiuso prega tanto questi qua ci fanno troppi oggetti sinceramente io ho già scaricato il progetto se non lag ho già scaricato il jetpack qua ho già iniziato a fare i buchi perfetto allora bisogna mettere le nostre leve quindi ariacchilo ariacchilo no stavo ascoltando nel frammenti pronti partenza al no il papa alle sue ultime dichiarazioni non ma questo non è rosso 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 questo è arancione 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 ma scusa perché fai così non era meglio che te lo tenevi in casa tutto l'impianto e risparmiavi undercest ma si c'è 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 l'ho in casa l'andercest quindi siamo a posto eh questo lo so vabbè tanto i green sono infiniti l'ossidiana anche per un po' di non mi si apre neanche la porta per un po' di di enderpearl morirò oh morto ma si così ce l'abbiamo lontano tutto insieme facciamo vedere tutto e magari se riesco anche a capire cosa devo fare perchè sono venuto qua dentro a prendere tutti gli oggetti quindi prendiamo uno stack di oro quattro stack di ferro no allora a te ti serve solamente due pezzi di legno ah no vabbè si 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 hai ragione ti serve sto di shant of menu quante ne hai ah bene bene troppo ogni tanto dovrei ehm perché sono un pochino pieno ah quattro stack di end di cose quindi siamo a posto qui mettiamo qua dentro tutto quindi dovrebbe esserti arrivato un po' di oggetti sulla ender chest riusci ad aprirla no no io sto proprio un altro server nooo è uscito anche questa volta beh ti devo dire che lag anche a me quindi credo che sia un po' normale per tutti e quelli che vogliono che per fare video con voi l'indirizzo del server è 80 2 punto 75 bim sì perché noi abbiamo un metodo preliminare se voi entrate con il nostro non esiste quindi siete ciudati entrambi dice che ho messo tutti i stimoli ma si è la sensazione è sempre la migliore dal 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 mi qualche secondo di tempo non mi so allora con quattro pezzi di ferro stone e oro no bastava un oro si fa la inert stone perfetto poi con la inert stone che ci sta preparando e di shard quindi otto shard si fa la minimo stone che entra qui dentro e arriva qui perfetto prima che ci faccia 180 mila minimo stone sto cercando un'area ho visto quella dell'ftb lancer ma quella che ti ho detto ieri ma qual è quella family cosa o l'altra perchè la family non so non riesco a scaricarla mi dice che non trovo no quella la no 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 quella pulicina quella la marika fur sempre più otto se un esplosivo mi sa che questa texture mi piace dj scarica questa scarica questa cos'è aspetta provo a cambiarla dovevi averla già scaricata scaricata texture è la sor sor tex aspetta un attimo che adesso esco da ftb e td ti bilancio sono due mi sembra un consumo note la storia che c'era già non piace no ben dj disconnet video setting oddio c'è anche ma i little pony Perché c'è un pacchetto My Little Pony Un po' più sotto Voxel My Little Pony Oddio No, è quello per i server Online È in vanilla con le possibilità di modificare Però c'è tipo Word Edit